Ciao amici, oggi vogliamo provare a impollinare un'orchidea. Le orchidee hanno sulla stessa fiore sia il sesso maschile che quello femminile. Vedendo su un fiore reale, possiamo vedere da vicino che ha sia il sesso maschile che quello femminile. No, allontanate un po'. Ok, adesso proviamo a separare il polline dal fiore. Pausa. Vai, avvicinati. Prendiamo uno stuzzicadente e spostiamo in avanti questo piccolo peduncolino bianco. Come potete vedere, su questo piccolo peduncolo ci sono i pollini. Così, così. Ok, adesso dobbiamo separare da questo peduncolo il polline, che è giallino. Prendiamo con le mani e poi mettiamo dentro. L'abbiamo separato. Mettiamo dentro a una pianta che volete. Ad un altro fiore. Quindi andiamo a prendere un altro fiore e lo mettiamo dentro l'altro fiore. Lo apriamo bene. E andiamo a recuperare invece la parte sotto dove vedete che c'è un piccolo buchino. E lo mettete lì dentro. Lo andiamo ad inserire, a spingere bene in fondo. Lo potete usare con la pinzetta o con lo stuzzicadente. Il gioco è fatto. E ora basta aspettare. L'abbiamo solo. Grazie.